Allora, arriva il momento di salterraggio, alle 10.10, stavo distratto, non so quando è cominciato. Stavo a montare il volcano di quattro strade, il vulcano di quattro strade. Oh, qua non ha bruciato quattro volte, ma che cazzo è stata bruciata? Manca parte del tempo, io gli ho rotto la macchina per una prestazione. Sì? Può stare salta in aria, tutti quanti allora, sempre perché cazzo. Allora, tu la fai di specie. Tu fa parte di un'associazione labbiosa, associazione della lingua di stampo labbiosa. Tu fa parte di un'associazione della lingua di stampo labbiosa. E questo è il primo busto di stampazione mia. Fumo io? Fumo cantarigio, non io? Voi fate fumare a me? E io faccio fumare a voi, allora. Voi fate fumare a me? E la scioglilingua? E io faccio fumare a voi. Voi faccio tossire così. Possiate tossire tutto il rato, il rato non è che esiste sulla terra. Possiate farvene una maniata. Vabbè, basta. Sto a continuare troppe batterie. Sto a continuare, sti 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 a continuare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.